buonasera allora stavo guardando manchester united atletico madrid anzi siamo all'intervallo mentre sto registrando questo video con l'atletico in vantaggio sapete che non mi ero neanche reso conto ci ho pensato un po che nel manchester united non c'era polpo qua fuori per scelta tecnica giocatore che mi sembra per un insieme di cose di situazioni lontano ma molto lontano da quello che giocava nella juve giocatore che giocava bella ripetizione balsa ragazzo che giocava nella juve tra l'altro scusate un attimo ma devo anche attivare una luce ecco così va molto meglio direi balsa ok è scivolato indietro di diverse categorie poi va è come una squadra che retrocede dalla a alla b e lotta per salvarsi dalla b alla c mi spiego è un giocatore che a volte ti fa venire l'idea che fosse addirittura sopravvalutato prima perché l'involuzione c'è stata ed è un'involuzione secondo me legata al fatto che nella juve era considerato un pilastro nel manchester united è considerato uno dei tanti era fin da subito è stato considerato così fin da subito ma voi vi ricordate per esempio che al di là del rendimento in campo il pogba della juve lo vedevate in giro al fifa world player a tutte le manifestazioni legate al calcio le più importanti era sempre invitato si presentava spesso con sua mamma per la playstation per per iniziative dell'adidas c'è era stava entrando stava per entrare nell'olimpo del calcio mondiale non solo a livello di prestazioni no ma anche a livello di immagine era un brand adesso si usa dire così no stava diventando un brand personale direi non dico a livello di messi ronaldo eccetera però era instradato molto bene da quella parte da un paio d'anni è sparito anche da questo tipo di giro vuol dire che il pogba che c'era prima in questo momento non c'è più e allora era sopravvalutato prima o è sottovalutato adesso questa è una domanda che vi rivolgo non dico quasi che fosse un sondaggio no però mi piacerebbe anche sapere un po la vostra la vostra opinione perché è evidente che il pogba che vedevamo nella juve non l'abbiamo più visto nel manchester united io ricordo anche la partita che fu giocata nel 2019 no a a manchester sì effettivamente fu l'unico ad impensierire scesni colpì un palo con un tiro da fuori eccetera però nella juve aveva il polso della situazione mi ricordo quando pogba prendeva palla centrocampo lo stadium vibrava cioè si aspettava qualcosa da lui di di importante era travolgente era devastante lo stadium lo lo seguiva non lo spingeva lo seguiva quando portava a palla nello united non ho mai avuto questa sensazione pur avendo visto diverse partite televisione naturalmente al di quella che avevo visto direttamente all'altra ford e non si è mai avuta questa sensazione è stato risucchiato non so da che cosa forse scarso fini con gli allenatori con con murinio non andava d'accordissimo non lo so non lo so ma anche in nazionale le sue prestazioni non sono più state quelle di prima io mi sono fatto l'idea che lui non si sia trovato bene lì allo united e che abbia una gran voglia di cambiare aria dallo united e e è normale che da lì scatti la suggestione di rivedere pogba con la maglietta a strisce bianco nere no è normalissimo se ne è parlato nel momento in cui lui è tornato là ma sono anche convinto di una cosa che se tornasse alla juve non sarebbe più il pogba del magister united ma sarebbe molto vicino a quello che aveva lasciato la juve qualche anno fa io credo credo che sia pure in scala ridotta la juve fosse diventata l'area di conforto per pogba è un limite attenzione un limite lo vedete messi adesso cos'è nel paris saint germain è lontano anni luce da quella al di là del fatto che è aumentato con l'età però non può aver avuto un crollo così drastico se avesse ancora addosso la maglietta del barcellona non sarebbe così messi ragazzi e credo che con le dovute proporzioni anche pogba soffra la stessa situazione poi è difficile è difficile riportarlo torino è difficile perché guadagna 14 milioni di sterline sono tanti sono tanti però è vero che viene via a costo zero e se la juve ci prova io dico che fa bene io ci ho riflettuto molto su quello che vi sto per dire se fossi nella juve farei di tutto per portarlo indietro anche se a volte si dice ma la ribollita le minazioni riscaldate no guardate guardate morata guardate morata adesso come come sta uscendo di nuovo alla grande c'è bisogno di un po di tempo ma poi i giocatori se si trovano nell'ambiente giusto ti danno qualcosa comunque morata non solo ha dato 20 gol alla causa della juve 20 gol nell'anno di ronaldo nell'anno di 36 gol di ronaldo lo ricorderò sempre morata ne ha segnati 20 quindi non è stata sicuramente una una stagione negativa per lui e questa qua sta avvolgendo chiaramente al positivo perché si trova bene alla juve si trova bene a torino bene poi secondo me potrebbe essere una bella scommessa da vincere da parte della juventus bisogna capire fino a che punto si può spingere questa società per soddisfare le sue pretese e fino a che punto lui pur di tornare alla juve è in grado di venire incontro alla società con ben altre pretese se tornasse a juve lo renderebbe ancora allegri perché adesso è uscita questa no questa questa possibilità di interesse del paris e germain nei confronti di allegri non so non lo so non lo so se ci sia sotto qualcosa anche perché poi sulle questioni di allegri c'è sempre molta omertà molto segreto molto segreto e comunque il nome di allegri non è l'unico che sarebbe nel mirino al paris saint germain certo io credo che sarebbe un duro colpo per la juventus se allegri dovesse andare al paris saint germain al di là il fatto che molti e anche di voi sarebbero contenti che succedesse qualcuno mi ha suggerito la juve ha già preso tudor e quindi allegri può andarsene via serenamente io non lo so se sia così certo mi farebbe strano mi farebbe strano se dovesse accettare perché non ha accettato l'anno scorso il real madrid per tornare alla juventus non vedo perché dovrebbe accettare adesso il paris saint germain adesso che ha iniziato a sta iniziando a raccogliere determinati frutti e quindi può proseguire nella gradualità del suo progetto però una cosa affascinante anche questa da seguire da qui alla fine della stagione perché vorrebbe dire che per la juve sarebbe un ripartire nuovamente da capo e non so quanta voglia abbia in questo momento la società di ripartire un'altra volta da capo lasciando andar via un allenatore col quale ha pianificato una certa progettualità e poi portando chi tudor è un'ipotesi ricominciare da capo con un altro tipo di gioco con un altro tipo di giocatori magari non lo so non lo so ragazzi onestamente non lo so non so nemmeno perché ho parlato di queste cose stasera onestamente però questa questa faccenda qua di vedere Pogba in panchina in una partita così importante io ve lo dico se fosse stato juventus atletico madrid Pogba col cacchio che era in panchina era lì in mezzo al campo ecco allenato da allegri vediamo magari l'anno prossimo non escludiamolo del tutto che possa succedere non escludiamolo del tutto niente da aggiungere su juve vita real ragazzi nel senso che domani ci sarà il video dell'intervallo e poi video su facebook e video su youtube alla fine alcuni di voi mi hanno chiesto come mai oggi non ero la conferenza stampa vi dirò che anche domani non sarò allo stadio per un semplicissimo motivo quando sono state fatte le designazioni alla uefa devi comunicare i nominativi con un certo anticipo di chi seguirà il pre partita quindi la vigilia e per gli accrediti e la partita in quel periodo ero in pieno covid e ovviamente non potevo prevedere quando mi sarei negativizzato ecco perché non sarò presente oggi ecco perché non sarò presente domani ecco perché spero che la juve passi il turno anche perché così al prossimo turno di champions dovrei esserci io poi non sono io che decido se auto designarmi alle partite c'è una struttura che decide per me però insomma se tanto mi da tanto se la juve dovesse andare avanti alla prossima volta potrei esserci io diciamo che ho buone chance di esserci ecco volevo rispondere anche a questa a questa curiosità perché mi sembrava anche giusto rispondere ragazzi a domani è col solito canovaccio intanto iscrivetevi al canale ciao 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 ciao